Musica Siamo stati benissimo sotto tutti i punti di vista, ottima organizzazione quindi complimenti anche al comitato Forza Abruzzo Siamo qua a fare la visita a questa bellissima cittadina che è assisi Nella speranza che magari ci porti fortuna per le prossime partizie che già da domani ci aspettano i quarti di più l'altra In questa giornata di riporso ne approfittiamo di stare insieme per tenere anche un'area e integrarsi con le altre regioni Con gli altri comitati regionali e poi da domani penseremo invece alle sfide del campo Noi siamo dell'Umbria Ciao Già siamo contenti perché sono seri rappresentativi sul quadro del passato e turno Acudiamo che qualcuno arriva in finale Musica 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 Musica